Le nostre aziende stanno vivendo questo momento con molta attenzione a non farsi coinvolgere perché sono imprese che sono avvezze a questi sistemi di illegalità. Come dicevo più ad altri amici, imprenditori qualche giorno fa, noi non dobbiamo avere paura. In occasione della conferenza stampa di fine anno prova a tracciare un bilancio il presidente di Confindustria Foggia Giancarlo Di Mauro, un periodo segnato ancora profondamente dalle criticità della pandemia ma soprattutto dall'emergenza criminogena con la quale la terra di Capitanata continua a misurarsi. Il mondo delle imprese è più che mai al fianco delle istituzioni in questa lotta cruenta che ha colpito nel cuore una terra generosa che merita ben altro, ha affermato Di Mauro. Fuori dai nostri confini ci chiedono di lavorare sulle nostre eccellenze e sul potenziale inespresso ed è esattamente quello che faremo non avendo paura delle minacce esterne. Anzi, ci aspettano da noi tante cose. Ci rispettano due uomini, ma ci rispettano innanzitutto per le eccellenze che abbiamo sul territorio. È quello che possiamo ancora di più esprimere. Quindi sta a noi adesso dimostrare che siamo persone che non siamo coperte solo da questo fango della illegalità. Solo non avendo paura e denunciando le istituzioni noi possiamo vincere anche questa guerra e queste battaglie. Tra l'altro collaboriamo molto bene con le istituzioni Prefetto e Procura e quindi con, non direi la squadra Stato, perché lo Stato ha avuto sempre una sua squadra, quindi oggi ancora di più attenzione a queste problematiche e noi ne siamo felici e quindi vogliamo sempre più collaborare con lo Stato e con le istituzioni tutte.